Per la manifestazione di Lula la richiesta del PM di otto mesi di reclusione. La difesa ha chiesto la soluzione perché, come dichiara l'avvocata della difesa Giulia Lai, il fatto non sussiste. Il rallentamento della circolazione fu dovuto solo ed esclusivamente alla presenza delle persone sulla strada e non dei bidoni come contestato dall'accusa. Inoltre si era in presenza di un momento eccezionale dove tutti i politici hanno appoggiato le manifestazioni anche partecipandovi. Al termine dell'udienza la decisione finale per la manifestazione di Lula è stata rinviata il 18 aprile, per Siniscola il rinvio al 28 settembre, sia per la discussione che per la decisione. In contemporanea all'esterno del Tribunale si è tenuto un sit-in delle associazioni Libertade e Liberu. La nostra posizione è quella di sostenere come Liberu questa manifestazione chiamata da Libertade in sostegno dei pastori. È un sostegno che è dovuto, un sostegno per una battaglia chiaramente giusta e contro un ingiusto processo. Un processo che è volto sostanzialmente a criminalizzare le proteste dei pastori e a colpire un piccolo gruppo per intimidire tutta una categoria. Noi pensiamo che non sia questo il modo di raffrontarsi alle problematiche della pastorizia, ma sia piuttosto quello di confrontarsi in maniera politica, in maniera seria e rispettosa anche dei lavoratori rispetto a queste dinamiche. Gli atteggiamenti repressivi servono soltanto a inasprire le problematiche, non portano a niente e portano soltanto, come vediamo, a una sorta di vendetta di Stato nei confronti di piccoli gruppi di lavoratori che hanno soltanto cercato di attirare giustamente l'attenzione dell'opinione pubblica e anche hanno ricevuto il sostegno di tutta la società sarda, noi inclusi.